ciao a tutti oggi è 14 di ottobre faccio un aggiornamento per farvi vedere come sta procedendo con i carrubi allora qui c'è la mia serra questi sono per lo più tutti cipressi potete vedere i video proprio dedicati ai cipressi e qui ci sono i carrubi questo questo qui è l'unico sopravvissuto dei primi 7 che ho piantato l'unico sopravvissuto gli altri sono tutti morti e nel frattempo ne ho piantati altri quasi tutti quelli che ho piantato stanno si vede mettendo una piccola radice vediamo qui si vede lo stesso qui anche uscendo la radice qui anche sta uscendo qui è proprio evidente che c'è la radice questo credo ci sia la radice qui però in realtà che cosa è successo è successo che la la prima volta che ho piantato tutti avevano messo la radice tutti i carrubi sembrava che stessero si stessero sviluppando invece poi sono morti nel giro di pochi giorni vedevo che non crescevano rispetto all'unico che stava mettendo le foglie e sono andato a smuoverli un pochettino visto che la radice sotto era completamente marcia quindi ho provato a ripiantarne altri adesso vediamo vi aggiorno comunque oggi è il 14 di ottobre non è passato poi tantissimo tempo nel giro di una settimana con quella tecnica mettono la radice e niente adesso vediamo un attimo come come procede come si sviluppa vi do degli aggiornamenti ciao alla prossima